Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pagina sindacale. Ieri sciopero di un'ora degli edili, temono per il rinnovo dei loro contratti di lavoro. Le organizzazioni sindacali chiedono ad Eni una sedia selezione delle ditte a cui affidare le opere. Il futuro lavorativo appeso ad un filo sottile, il rinnovo dei contratti. Dinanzi ad un futuro nebuloso, i lavoratori dell'indotto edile ieri si sono fermati spontaneamente per un'ora perché temono che all'ombra delle ciminiere si prospettino scenari pieni di insidie, di incertezze, di dubbi e preoccupazioni legittime. E' quanto sottolineano Franco Iudici, segretario generale della Filca Cisla di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Nunzio Mangione, responsabile territoriale di Caltanissetta della stessa organizzazione, Dal Tantidio, segretario generale Fenial Will e Francesco Cosca, segretario generale della Fillea CGL. Nel condividere la terapidazione che attraversa l'indotto edile e l'apprensione dei lavoratori, naturalmente anche quella delle loro famiglie, il sindacato delle costruzioni alza il livello di attenzione affinché non venga esercitata la posa dell'ultima pietra. La prima solitamente simboleggia l'inizio di un'opera, l'ultima alla fine di un lavoro assieme a qualche bullone mancante. Al cospetto di una città dilaniata dalla povertà sempre più diffusa e davanti al dramma che sta investendo la comunità, Le federazioni sindacali del settore delle costruzioni hanno a cuore le sorti di questo battello che sembra navigare a vista e che non intravede l'orizzonte. Spinti da questo stato di assoluta emergenza, le organizzazioni sindacali investono del problema la raffineria di Gela. Ci sono, dicono, inquietudine ed apprensione che circondano il mondo del lavoro. L'Eni, firmatario del protocollo di legalità in prefettura e del protocollo d'intesa per l'area di Gela della 6 novembre 2014, impegnandosi a valorizzare le aziende del territorio, eserciterà come sempre un controllo accurato e dettagliato sulle ditte che presentano la loro offerta di gara. L'esame attento e minuzioso sarà il segnale di garanzia per lo stesso colosso industriale che farà affidamento su aziende sane, serie e credibili e anche per i lavoratori che vedranno assicurati il rispetto dei dettami previsti e contemplati dal contratto nazionale e provinciale di categoria. Situazioni diverse farebbero piombare nel buio assoluto il mondo del lavoro. Ecco perché confidiamo, come sempre, nella rigorosa e dirigente esame di Eni che punta sul rispetto delle regole e dei contratti di lavoro. Sarebbe oltremodo spiacevole, rilanciano le sigle sindacali, perdere altri segmenti di economia con il rischio di mettere sul lastrico altri lavoratori attualmente occupati. È una minaccia che dobbiamo respingere. Significa continuare a dare altri colpi letali al territorio e al mondo del lavoro perché per i tantissimi lavoratori impegnati nell'indotto edile le prospettive sono rarissime, anzi nulle, in un territorio economicamente depresso. Cambiamo argomento, ancora un attentato incendiario nel corso della notte a Gela. I gnolli malviventi hanno appiccato il fuoco alla sala cinesca di una sala da barba che si trova lungo Porta Caltagirone. Le fiamme sono state domate dai pompieri. La vittima ha dichiarato alla polizia che indaga sull'episodio di non avere ricevuto né minacce né richieste di denaro. Domani alle 9.30 gli studenti dell'Istituto Ettore Romagnoli di Gela si regheranno in visita al carcere. Si tratta di un'iniziativa che rappresenta la tappa finale del progetto La legge è uguale per tutti realizzato da Valeria Cuba in sinergia con il dirigente scolastico della scuola Romagnoli, Sandra Scicolone. I ragazzi verranno accolti dal direttore del carcere, dal comandante e da tutto il corpo della polizia penitenziaria in servizio e dalla dottoressa Savarino che ha curato i rapporti con la docente di riferimento. Il percorso all'interno del carcere ha come finalità da parte degli alunni la comprensione dell'ultimo anello della catena giudiziaria. La visita sarà scandita da momenti importanti come la visione del luogo in cui il condannato deve espiare la propria pena, la visione di video e tanto altro. La scuola Romagnoli, pertanto, promuovendo l'educazione alla legalità compie un passo importante per la formazione di questi futuri cittadini gelesi. Sarà presente domani anche l'assessore all'istruzione, Licia Abela. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il Comune di Gela, la libreria Mondadori e l'istituto scolastico Ettore Majorana organizzano per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre un'iniziativa che si terrà nei locali di Palazzo Ducale. Alle 16.30 del 25 è prevista l'inaugurazione della mostra denominata Letteratura e Arte. Sabato 26 al Teatro Eschilo alle 20.30 si terrà allo spettacolo l'urlo dei silenzi artisti contro la violenza sulle donne. Sono numerosi gli attori che saliranno sul palco. La regia è affidata a Maurizio Nicastro. Hanno aderito all'iniziativa numerosi club service. Sentiamo. Nasce dall'idea di dare voce tramite dei monologhi alle vittime che hanno subito queste violenze nelle varie parti del mondo quindi faremo un escursus in Siria, in Europa e gireremo per varie cose per chi ha subito la infibulazione per chi ha subito la lapidazione eccetera eccetera quindi sono dei monologhi toccanti e non abbiamo voluto edulcorare nulla anche perché l'argomento è molto forte però diciamo alla fine uscirà fuori un messaggio di speranza che è la condivisione di questa iniziativa anche da parte di tanti artisti avremmo potuto fare lo spettacolo con solo tre artisti abbiamo voluto invece 20 artisti sul palco perché vogliamo dare il senso della condivisione quindi gli spettatori saranno molto coinvolti in questo viaggio che noi faremo fra musica, arte, danza, esibizioni di artisti vari tipo pittori e via di seguito quindi sarà una bella rappresentazione una bella messa in scena per sensibilizzare su questo problema il messaggio che vuole dare è un messaggio che vuole sensibilizzare quelle persone che purtroppo è mai tuttora vivono di questi disagi io penso ieri mentre rileggevo i monologhi che andrò ad interpretare pensavo che nel momento in cui noi stiamo organizzando tutto questo ci sono persone che stanno vivendo questo disagio e persone che anche io purtroppo non ne conosco e che saranno anche presenti quella sera le donne devono prima arrivare all'insapevolezza di dover denunciare per arrivare a questo io credo che si debbano andare a cercare quelle che sono le complessità comportamentali che portano a questa violenza violenza che io credo sia non soltanto nei confronti delle donne ma può essere anche a livello generale quindi allarghiamola tutte il concetto di violenza quindi alla denuncia ci si arriva ma io credo che la violenza è semplice da attuare e invece sono difficili la complessità delle cause da trovare per giustificare questa violenza quindi quello sul quale io batto è sempre l'opinione pubblica è vero, bisogna sensibilizzarla ma per fare questo non bisogna mai mollare bisogna anche partire da queste cose da queste iniziative che possono essere anche teatralmente accettate ma l'importante è partire partire e non mollare e seguire sempre comunque un obiettivo in occasione del centenario della presenza dei padri passionisti in Sicilia l'urna contenente il corpo di San Paolo della Croce fondatore dei missionari della Passione di Gesù Cristo e delle monache claustrali passioniste sta visitando la Sicilia lo straordinario evento a cui ha coinvolto le città principali dell'isola e i luoghi dove sono presenti i padri passionisti a Gela l'urna del mistico della Passione arriverà oggi alle 17.30 in piazza Umberto I seguirà la solenne celebrazione eucaristica in chiesa madre presieduta da don Antonino Rivoli vicario generale della diocesi di piazza Almerina dopo la celebrazione snoderà la processione con l'urna fino alla chiesa di Sant'Agostino alle 21 inizierà la veglia di preghiera animata dai missionari passionisti domani nella chiesa di Sant'Agostino alle 8.30 ci sarà la celebrazione eucaristica e la visita dei fedeli e delle scuole al santo l'urna con il corpo proveniente da Roma lascerà Gela alle 16 per raggiungere Butera in attivi digitali vita da social tra reale e virtuale è il tema di una conferenza organizzata dalla Roda di Club di Gela presieduto da Simone Siciliano con il patrocinio del comune che si svolta ieri presso l'ex chiesa di San Giovanni l'ex chiesa donata alla città per la fruibilità pubblica per eventi culturali di genere come quello di stasera in cui il Rotary presenta attraverso il professor Francesco Pira un convegno sui nativi digitali nello specifico vita da social tra reale e virtuale per trattare un tema quotidiano che è l'uso e l'abuso dei social che distorce i comportamenti da un lato e dall'altro avvicina e riduce le distanze nei contatti tra persone creando però a volte dei gravi problemi sociali come quelli del cyberbullismo o l'analogia Il tema è particolarmente sentito comprendere come i nostri figli pre-adolescenti e adolescenti vivono il rapporto con il web ed in particolare con i social network quali possono essere i pericoli e quali invece le tante opportunità La tendenza è quella di pensare che i nativi digitali sono ragazzi che sono nati nell'era delle nuove tecnologie in realtà le ultime ricerche ci dicono che non è proprio così perché oggi noi possiamo avere 50 anni che sanno usare le nuove tecnologie che sono nativi digitali e invece ragazzi che non hanno mai visto il computer che magari vivono in un paese africano che non sono nativi digitali però a parte questo quello che è il focus di questo incontro organizzato da Rotary è certamente legato al fatto che noi assistiamo a una generazione che è stata definita in America la generazione app perché vive nel mondo delle applicazioni che vive un universo che è molto particolare quello delle nuove tecnologie quello dei social e molto spesso gli adulti, i genitori non sanno che cosa questi ragazzi fanno come passano il loro tempo come loro vivono la loro preadolescenza e la loro adolescenza Il pittore di Gela Antonio Chipinti ha eseguito il ritratto del professor Antonio Paolucci direttore dei Musei Vaticani nell'opera realizzata ad Acquerello della misura di 100x70 cm si vede e lo vediamo Paolucci è ergersi maestoso al centro del quadro tra i capolavori d'arte di cui è ricco il nostro patrimonio artistico e culturale sono un uomo fortunato ha detto Antonio Paolucci che ha ringraziato Antonio Chipinti lei, si legge in una nota mi ha voluto onorare con questo magnifico ritratto sono rimasto colpito e sinceramente ammirato il suo ritratto è un capolavoro di restituzione fisionomica e psicologica grazie a lei io mi sono visto come sono o come credo di essere ha aggiunto Paolucci Presentazione del nuovo disco ed un dibattito sociale protagonista sarà il cantante e blogger Povia appuntamento domani alle 21 al Teatro Eschilo di Gela l'ingresso è gratuito noi abbiamo sentito il sindaco Domenico Messinese Domenico Messinese ci sarà la presentazione del nuovo disco con un dibattito sociale un disco che ha una forte impronta sul sociale e che quindi l'artista ha deciso di fare delle tappe per tutta l'Italia per poterlo presentare lui direttamente spiegando pure entrando proprio nel merito delle sue canzoni quindi questo appuntamento siamo riusciti a portarlo pure a Gela e quindi avremo il piacere che il giorno 24 alle ore 21 al Teatro Eschilo ci darà l'opportunità di poter dialogare di poter parlare direttamente con Povia mentre spiegherà il suo nuovo album e spiegando qual è il messaggio che vuole inviare l'ingresso è libero però fino ad esaurimento dei posti perché giustamente c'è un problema anche di capienza quindi tutti invitati a partecipare però cerchiamo di essere puntuali perché chi arriverà tardi c'è rischio che non potrà entrare nell'ambito dell'anniversario della provazione della convenzione ONU dei diritti dei bambini venerdì 25 novembre alle 10.30 nei locali della scuola Nicolas Green di Via Tiziano a Gela si terrà un incontro organizzato dal Kivanis Club e dall'Istituto Comprensivo Don Milani sullo status del minore straniero non accompagnato parteciperanno Pietro Carosia comandante della Capitania di Porto di Gela ed il tenente di Vascello Francesco Distri a capo servizio operativo della stessa Capitania che relazioneranno sui aspetti operativi e umanitari dell'intervento di salvataggio in mare dei minori stranieri previsto l'intervento anche del magistrato Lidio Conti che dibatterà sullo status giuridico del minore straniero non accompagnato nell'ordinamento giuridico italiano relazionerà anche l'avvocato Gatano Dharma consigliere del Kivanis che parlerà sull'Istituto dell'Affido e la dottoressa Maria Vassallo responsabile del centro Tu come me di Gela che parlerà sugli aspetti organizzativi di una casa famiglia e sulle esperienze vissute Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente Cosa conferire? Plastica Piatti e bicchieri monouso in plastica bottiglie di acqua e bibite flaconi taniche dispenser e tubetti vuoti per detergenti detersivi shampoo e dentifricio prodotti per l'igiene della persona e della casa baschette contenitori buste e sacchetti per alimenti imballaggi in polistirolo reggette stringipacchi blister reti e cassette per frutta e verdura contenitori con sigle PET PVC PPPPS Cosa conferire metalli? Lattine per bevande scatole e lattine in banda stagnata contenitori in metallo pelati tonno mais cibo per animali contenitori di prodotti per l'igiene personale tappi coperchi e stampi per dolci in metallo carta in alluminio di uso domestico pulita contenitori in alluminio per alimenti puliti bombolette spray vuote non pericolose coperchi in alluminio degli yogurt lattine con il simbolo AL come conferire il multimateriale gli imballaggi in plastica assieme agli imballaggi in metallo alluminio banda stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci eccoci la seconda parte del telegiornale che apriamo parlando di calcio il Gela vola nel torneo di Serie D e domenica impegno arduo a Cava dei Terreni si affronteranno seconda contro terza in classifica è un Gela che vola quello che domenica prossima si presenterà a Cava dei Terreni in una sfida che richiama alla mente la finale playoff per accedere in C1 vinta poi dai gelesi un Gela che arriva da tre vittorie di seguito e che non vuole fermarsi l'impegno in Campania è arduo si giocherà contro una squadra che ambisce all'assalto di categoria e alla posizione in classifica nella testimonianza più evidente seconda a quota 26 ad un solo punto dalla vetta occupata dall'Ige Virtus ma il Gela è lì a pochi passi al terzo posto con 22 punti sarà il big match della tredicesima giornata di Serie D non c'è dubbio che sarà una partita di cartello una partita bella una partita che evoca dei ricordi importanti per due società importanti che hanno calcato palcoscenici diversi da quelli della Serie D sarà una bella partita due squadre in salute due squadre due belle squadre che praticano un bel calcio sicuramente ci sarà una degna cornice di pubblico e cercheremo con le nostre armi con la nostra umiltà di mettere in difficoltà questa corazzata che punta dritta alla conquista del campionato sette gol fatti e nessuno subito negli ultimi 270 minuti per la squadra bianca-azzurra una difesa rocciosa e un attacco stellare numeri da grande squadra le vittorie le otteniamo attraverso il bel gioco divertiamo la gente e questo è motivo di grande orgoglio per la società perché ha cercato fin dall'inizio del campionato di dare questa impronta alla squadra il campionato è ancora lungo ancora la strada è lunga però ritengo che ci sono molte ma molte note positive e ci fa stare tranquilli ci fa lavorare in serenità per la gara di Cava dei Tirreni i tifosi si stanno già organizzando il Gela non è solo e mai lo sarà la passione dei tifosi gelesi è incredibile e ce la trasmettono anche a noi e sono certo così come dovunque siamo andati in giro per l'Italia saranno presenti saranno presenti numerosissimi schiazzosissimi e sarei veramente saremo molto lieti di poter dare loro una gioia sarebbe una cosa incredibile di una bellezza incredibile poter esultare insieme a loro a fine gara e ce la metteremo tutta con la nostra solita umiltà si darà giovedì 8 dicembre in piazza Umberto I a Gela la manifestazione Corri con Papa Natale 2016 l'appuntamento è previsto per le 9.30 l'iniziativa è organizzata dalla associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Valetti in collaborazione con il comitato locale Unicef la Croce Rossa la protezione civile eligio soccorso e col patrocinio del comune l'evento rientra nel progetto di educazione alla salute sport ed ambiente che ha la finalità di promuovere l'attività motoria in età evolutiva all'aperto per informazioni e iscrizioni c'è un numero telefonico 347-5799-271 lo ripetiamo 347-5799-271 è prevista per domenica prossima a Gela la maratonina del Golfo la gara che ha superato i confini regionali ha già registrato la partecipazione di 700 atleti l'iniziativa porta la firma dell'atletica Gela preseduta da Luigi Morselli come l'anno scorso sarà l'ultima gara dell'anno del calendario regionale fidele per noi un motivo d'orgoglio chiudere l'annata agonistica terza edizione sarà innanzitutto a Memorial Aurelio Triberio giovane avvocato mortamente faceva la nostra passione correva a lungo mare come associazione questa manifestazione sarà molto molto improntata nel sociale quindi già è un memorial poi daremo spazio a due associazioni molto importanti che si occupano di problematiche nel sociale di malattie anche le malattie rare è arrivata alla terza edizione è arrivata alla terza edizione con l'approccio e con l'obiettivo di continuare e di continuare nel tempo siamo partiti con la partecipazione di qualche centinaio di persone di pochissime centinaio di persone oggi il presidente diceva che quest'anno si prevede la presenza di circa 700 persone è considerata la crescita la crescita non dica esponenziale ma la crescita graduale del numero di partecipanti significa che una di quelle attività una di quelle manifestazioni che comincia a prendere piede potrebbe diventare anche un appuntamento fisso i presidenti regionali di LIT e AISA associazioni chiederanno un valore sociale alla manifestazione sportiva di domenica è una manifestazione bellissima per due cose una perché si fa a Gela che è una città della Magna Grecia dove la corsa è uno degli sport più antichi perché porto un messaggio non solo nel sociale in quanto competizione ma che quest'anno vuole avere anche un messaggio per la prevenzione ogni sportivo saprà che c'è all'interno del suo contenuto cioè del fatto che fa sport fa anche prevenzione contro i tumori e lo comunica agli altri sì il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo che anche se la malattia è difficile è terribile è altamente invalidante si può uscire si può andare fuori si può divertire e noi quello che vogliamo lanciare è proprio questo uscire fuori dalla solitudine perché questa malattia in principal modo tende a far chiudere e a far stare in casa le persone malate perché l'andatura anomala di questa malattia fa sì che magari si sentano presi in giro le persone e noi invece vogliamo che le persone escono di casa e questa è una manifestazione che ha tutti i requisiti per poterlo fare ultimo appuntamento con la rassegna viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela col patrocinio della regione del comune e del museo sabato 26 novembre alle 19 nei locali del museo archeologico regionale recital del chitarrista Massimo Martinez comincia da oggi la stagione teatrale all'antitoto di Macchitella a Gela alle 21.30 è prevista l'esibizione di Pippo Franco in Svalutation lo spettacolo sarà ripetuto domani sempre alla stessa ora abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci eseguito appuntamento alle prossime edizioni a Gela 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 a Gela